Signore, io ti do l'osservanza e il tuo amore mi salva. Avere questa consapevolezza che tutto è grazia, tutto viene da un amore sconfinato. Non siamo noi a conquistarlo. Allora, dobbiamo chiedere al Signore che riconosciamo il nostro limite e la forza della sua grazia ci faccia avvertire un'attenzione costante verso di Lui, verso il suo amore. Questo ci dà grazia, questo ci rasserena, perché abbiamo fiducia in Lui, non nelle nostre opere. Abbiamo fiducia in questa ricchezza di amore che supera sempre i nostri limiti e le nostre fedeltà a ricetta. Allora abbiamo da chiedere al Signore questa costante inclinazione al riconoscimento del nostro limite e del nostro peccato. Chiediamo al Signore che, non per apparire, ma per sentirci, vestiamo l'abito del pubblicano. Solo quello è nostro, il peccato. E allora, Signore, anche oggi, abbi pietà di me, abbi pietà di noi, che siamo peccatori, ma ci fidiamo e ci affidiamo a Te.